Nei bronzetti ho voluto evidenziare questo gioco tra pittura e scultura. Infatti sono intervenuto sul bronzo con questi smalti a caldo che vengono applicati sul bronzo. Questa fa parte di una serie dei passaggi, cioè una serie di porte e finestre in cui c'erano elementi che si insinuano, che si inseriscono. Questo è un passaggio notte giorno.